questa è la casa di ali 008 mamma mia che confusione stanchezza sono dovuta venire a piedi che la mia scopa ha preso il covid lasciamo qui le case ok ora fammene andare bye bye mamma avete sentito anche voi questi rumori sono meglio svegliati ti sveglio io allora vieni forse è venuta la bel fan ecco perché ho sentito i rumori oggi è il 6 sì le case questa è la mia o anche mamma ha ricevuto delle case e anche papi apro prima la mia perché la mia è troppo bella e di game mens allora vediamo cosa c'è una mascherina rossa proprio quello che volevo che cosa c'è ancora la mucina questa sì che buona c'è qualcos'altro sto piccolino cos'è un coton focca il tampone sopra la mia ok cosa esce ma cos'è come cos'è delle mascherine molto utilissime io sicuramente sarò stato bravo ma tu avrai avuto il carbone anche tu delle mascherine quante mascherine ma te li puoi perché sei infetto forse nooo però io ho avuto anche questo non lo sconda di dentro no no Grazie a tutti